Grazie, buonasera a tutti. Come ha anticipato Danilo, la mia relazione sarà un pochino una presentazione, una preparazione per quello che saranno le prossime relazioni. Le prossime relazioni parleranno davvero di futuro, io parlerò di quello che è stato il futuro tanti anni fa, addirittura anche più di tanti anni. Quello che adesso è scienza, anni fa poteva essere fantascienza, quindi prendo in particolare una immagine che non ha niente a che fare con l'astronautica, con viaggi spaziali, ma è un disegno del 1930 in cui l'autore ha immaginato i videotelefoni. Stiamo parlando di quasi cento anni fa, ovviamente videotelefoni con la forma che potevano avere i telefoni di allora. Questo è stato davvero un esercizio di fantasia non indifferente. Ho parlato di fantasia perché la fantascienza è fantasia, ma non solo la fantascienza è fantasia, anche la scienza. La scienza per immaginare i progetti, per immaginare di andare sulla Luna, per immaginare di andare verso le stelle ha bisogno che le persone abbiano fantasia. Ovviamente fantasia pilotata e supportata da una certa base scientifica e tecnologica. Quello che vedremo invece questa sera in molti casi sarà fantasia in alcuni casi abbastanza sfrenata. Quindi, vista questa base di partenza, possiamo dire che nel campo astronautico, a parte Verne che ha anticipato di quasi un secolo i viaggi sulla Luna, scrittori famosi come Wells, Asimov, di cui parleremo poi più avanti, o registi famosi come Kubrick o Anderson, quello che hanno pensato vedremo che non assomiglia molto a quello che effettivamente abbiamo raggiunto. Di fatto, dalla missione Apollo, noi non ci siamo più spostati dalla faccia della Terra. Diamo una breve definizione di fantascienza. Che cosa può essere? Come può essere definita la fantascienza? Allora, innanzitutto è un genere narrativo, è un genere narrativo che copre la letteratura, il cinema, la televisione, più avanti i fumetti, i videogiochi. Comunque è un modo di narrare. La fantascienza racconta di fatto quello che la scienza e la tecnologia, che siano reali o immaginarie, perché la fantascienza può basarsi anche su aspetti reali applicati in maniera particolare. Quindi quello che scienza e tecnologia modificano della società e dell'individuo. In senso generale possiamo dire che tutti i tipi di narrazione che includono un fattore scientifico, con un certo grado di plausibilità, possano essere considerati come fantascienza. Per fare un esempio di film famosi, di racconti famosi, il Signore degli Anelli non è fantascienza. Quando si parla di magia non è fantascienza. Anche se una frase famosa che ricorre spesso è che la scienza può sembrare magia a chi non conosce gli aspetti pratici della scienza. Comunque una definizione ben precisa della fantascienza sono anni che si sta cercando e non si è ancora riusciti a identificarla in maniera corretta. Questo possiamo dire che, per quello che dobbiamo vedere questa sera, può abbastanza avvicinarsi. Di che cosa parleremo? Di che genere di fantascienza parleremo? Io non voglio parlare di viaggi troppo lontani nel futuro, troppo lontani nello spazio, quindi non parleremo di galassie, lontane, lontane. Non parleremo di Star Trek, che è ambientato nell'anno 2265. Non parleremo del ciclo delle fondazioni di Asimov, che è ambientato addirittura negli anni 25.000. Staremo quindi vicini a casa nostra, vicini a casa nostra perché dobbiamo confrontare la fantascienza con quello che abbiamo effettivamente raggiunto. E il primo oggetto al di fuori della Terra che abbiamo raggiunto, quindi non parleremo di queste astronavi, il primo oggetto che abbiamo raggiunto è la Luna. La Luna che è stata da sempre un obiettivo da raggiungere, un po' perché si vedeva che era un oggetto vicino, si percepiva che non era la stessa cosa delle stelle. E dall'antichità, fin dall'antichità, a partire dal 79 avanti Cristo, l'uomo ha immaginato di andare sulla Luna. Il primo a immaginarlo è stato Luciano di Samosata nel 79 avanti Cristo, che ha scritto la storia vera, in cui narra di un gruppo di persone che sono decise a superare le colonne d'Ercole per vivere avventure. Lascia, in questa sorta di romanzo, lascia perdere ogni pretesa di verosimiglianza e lascia veramente correre la fantasia. Questo è il primo testo, quindi nel 79 avanti Cristo, di cui abbiamo memoria, di cui abbiamo traccia, in cui si parla di raggiungere la Luna. Ho citato anche, ci spostiamo velocemente nel corso dei secoli, ho citato Dante. Dante non è fantascienza, però Dante nel secondo canto del Paradiso raggiunge il cielo della Luna con Beatrice e all'inizio del secondo campo discute con Beatrice della qualità delle macchie lunari. Dante dà una sua interpretazione delle macchie lunari dicendo che potrebbero essere dovute a diversa densità del materiale, arrivando molto vicino a quello che effettivamente poi hanno scoperto nei nostri giorni, mentre Beatrice confuta questa spiegazione andando su fatti teologici di cui non ci occupiamo. Però già nel 1300 Dante, pur essendo uno scrittore di fantasia, non uno scienziato, aveva comunque immaginato qualche cosa simile a quello che effettivamente poi è stato scoperto. Proseguiamoci, avviciniamo un po' di più nei giorni nostri e nel 1600 Keplero, che è famoso, è uno scienziato, un astronomo famoso per le sue tre leggi che descrivono il moto dei corpi attorno al Sole, quindi il moto dei pianeti attorno al Sole, si è cimentato anche in un romanzo, in cui questo Somnium del 1609, in cui immagina come potrebbe essere la Terra vista dalla Luna. Questo Somnium è un po' considerato il primo trattato serio sull'astronomia lunare. Sia Sagan, famoso scienziato e scrittore, che Asimov, lo hanno citato, sempre questo Somnium, come primo vero esempio di fantascienza. Keplero, che era scienziato, appunto, ha immaginato, usando la fantasia, legata alla conoscenza, diciamo, alla tecnica, alla conoscenza. Cosa che invece non ha fatto Raspe nel 1795, con le avventure del barone di Munchausen, in cui immagina che il protagonista, a cavallo di una palla di cannone, raggiunga la Luna. D'altra parte, questo barone di Munchausen, che è effettivamente una figura storica, narrava di fatti da lui compiuti, dove lasciava veramente andare la fantasia. Oltre ad aver raggiunto la Luna su una palla di cannone, è riuscito anche a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, tirandosi per i capelli, se stesso. Diciamo che la fantasia non mancava al vero barone di Munchausen. Continuiamo il nostro excursus, andiamo sempre più vicini a noi nel tempo, e arriviamo al 1865, praticamente cent'anni esatti prima dello sbarco sulla Luna, comunque cent'anni prima che iniziassero le missioni Apollo. Verne ha scritto Dalla Terra alla Luna, seguito intorno alla Luna, devo aver sbagliato una data, 1870, in cui un gruppo di persone capisce di poter raggiungere la Luna progettando un cannone molto potente. Ovviamente, come molto spesso le avventure nuove, le iniziative nuove vengono un pochino prese in giro, un pochino guardate con sospetto, tant'è vero che nel romanzo l'idea di questo gruppo di persone viene considerato un fallimento. Nessuno crede che possano effettivamente raggiungere la Luna. In realtà, il lancio nel romanzo ha successo, il proiettile viene lanciato nello spazio, anche se poi non arrivano sulla Luna, ma vengono semplicemente messi in orbita attorno alla Luna. Arrivano all'orbita e l'ingegno di queste tre persone su questo Giva, su questo proiettile, gli permetterà di tornare sani e salvi sulla Terra. Questo romanzo è stato usato poi come base per il primo film di fantascienza, che è del 1902 di Méliès. Méliès usa il romanzo di Verne come base per il suo film Viaggio nella Luna. Méliès è universalmente riconosciuto il padre del cinema dopo i fratelli Lumière. È stato lui a introdurre una serie di tecniche sperimentali nuove. Molti critici lo considerano effettivamente l'inventore della regia cinematografica in senso stretto. Ha inventato il cinema fantastico, ha inventato gli effetti speciali, la dissolvenza, il colore sulla pellicola che veniva disegnato a mano ai tempi. Qualcuno lo ha definito il giotto del cinema. Di fatto i primi effetti speciali sono i suoi. C'è un film, questo Viaggio nella Luna, in cui, con i mezzi dell'epoca, stiamo parlando del 1902, effettivamente riesce a inventare delle soluzioni strabilianti. Sulle sue orme ci spostiamo allora adesso effettivamente verso un certo cinema di fantascienza e arriviamo ai giorni nostri, giorni nostri per modo di dire perché sono passati 50 anni dal 2001 di Sé nello spazio. Ne parleremo anche dopo di questo film. Kubrick nel 68 firma questo capolavoro dove c'è una parte di film girata, immaginata sul cratere Clavius della Luna dove c'è una base lunare, da dove parte questo gruppo di astronauti per trovare il famoso monolito di 2001 all'interno di un scavo fatto nel cratere Tico. La trama di questo film magari la trattiamo un po' più avanti perché non si ferma alla Luna, Kubrick. Kubrick, tra parentesi, è stato anche incolpato, accusato, diciamo, di aver orchestrato lui il vero sbarco sulla Luna del 1969 perché dopo il film girato un anno prima i filmati riportati dagli astronauti delle missioni Apollo ricordavano molto molto bene il suo film, quindi aveva effettivamente immaginato molto bene. I complottisti che in questi giorni stanno popolando il mondo di internet lo accusano di essere stato lui e quindi in realtà è il registro del film e dell'allunaggio. Proseguiamo nella carrellata e arriviamo a spazio 1999. Vent'anni fa è successo che la Luna, secondo Jerry e Sylvia Anderson, vent'anni fa la Luna per colpa di un'esplosione sulla sua superficie è stata strappata dall'orbita della Terra. Ovviamente questo film, questa serie è stata girata in realtà nel 1973. In questo caso la fantasia degli autori non è stata supportata dai fatti reali perché il 1999 è passato in denne, sulla Luna non ci sono queste basi lunari, non c'è la base alfa, non ci sono le aquile e tantomeno la Luna è stata strappata dall'orbita della Terra. Era una serie molto famosa, tecnicamente, scientificamente un po' implausibile perché la Luna viaggiava nello spazio spostandoci fra un mondo e l'altro nel corso di una puntata, quindi non è molto verosimile. Però ha avuto un discreto successo e ha rappresentato molto bene quelle che potrebbero essere delle basi lunari. Dopo aver visto tutte queste lucubrazioni, queste speculazioni, che cosa è effettivamente successo? Come siamo arrivati noi sulla Luna? Noi siamo arrivati sulla Luna con un percorso molto faticoso che ha inizio nel 1959 con il programma Luna dei russi. Il programma Luna consiste nel lancio di queste palle di alluminio, vedete nella prima foto in alto, sonde destinate a schiantarsi sulla Luna per prendere alcune immagini, per prendere alcuni dati, quello che potevano prendere nel 1959 con la tecnologia di allora. La prima missione è stata un fallimento, nel senso che la sonda ha mancato la Luna, mentre la Luna 2, la seconda del 1959 sempre, è riuscita ad arrivare fino sulla Luna. La risposta degli Stati Uniti è stato il programma Ranger, durato dal 1961 al 1965, che ha avuto particolarmente successo in particolare con gli ultimi Ranger, il 7, l'8 e il 9, che negli ultimi due anni hanno effettivamente raggiunto la superficie lunare, sempre schiantandosi sulla Luna, non erano destinate ad atterrare, però raccogliendo in tutto quasi 20.000 foto, fra tutti e tre, della superficie lunare. Quindi le prime foto dettagliate della superficie sono arrivate da questi satelliti. Abbiamo ovviamente, facciamo un salto, evitiamo tutti i passaggi intermedi, e quindi il culmine è stato effettivamente con la missione Apollo. La missione Apollo, che dal 1969 al 1972 hanno portato 12 astronauti, dovevano essere 14, ma sapete che l'Apollo 13 non è riuscito ad atterrare, la vicenda è narrata molto bene nel film Apollo 13, appunto. Questo è stato il culmine delle spedizioni sulla Luna. Abbiamo sette missioni, durante l'ultima missione addirittura abbiamo portato un rover, abbiamo portato sulla Terra 380 kg di pietre da studiare, ed è stato effettivamente il culmine delle missioni spaziali da parte dell'umanità. Non siamo ancora riusciti, pur con tecnologie migliori, a impegnarci in un'impresa così grande. Questo non vuol dire che adesso non ci sarebbe la tecnologia per farlo, semplicemente non c'è la possibilità economica di impegnarsi in un'impresa del genere. Quindi con la missione Apollo 11 di 50 anni fa, ormai, il 20 luglio c'è il cinquantenario, abbiamo raggiunto il top. Dopo Apollo 11 ci sono stati periodi di scarso interesse, perché pensare di interessare la gente maggiormente dell'allunaggio di persone umane era un pochino difficile, e questo interesse ha cominciato a muoversi un pochino di più negli ultimi anni del millennio. Quindi abbiamo una missione giapponese nel 1990 con lo scopo di testare la tecnologia per future missioni lunari. Abbiamo una missione della Cina che manda la sua sonda nel 2007, la Chang'e 1, con l'idea di realizzare una mappa tridimensionale della superficie e di identificare dei siti disponibili a un allunaggio morbido. Abbiamo una missione indiana nel 2008, la Chandrayan 1, sempre con lo scopo di prepararsi alle missioni future. Fino ad arrivare alle missioni più vicine a noi, citiamo in particolare la missione del 2009 del Lunar Reconnaissance Orbiter, che ha fotografato con un'altissima risoluzione la superficie, in particolare questa foto mostra le immagini del rover dell'Apollo 17. Vedete, questi sono i percorsi dell'Apollo 17 e questo il luogo dell'atterraggio. Sempre prese da sonde che però non sono atterrate sulla Luna, sorvolavano la Luna. Arriviamo alla fine, ai giorni nostri, all'ultima missione, la Chang'e 4, dei cinesi, che il 3 gennaio scorso è atterrata sulla Luna, sul lato nascosto della Luna, da dove riesce a trasmettere sulla Terra immagini grazie a un altro satellite che rimane in orbita per fare da ponte radio. Questo diciamo che è l'ultima missione effettivamente completata ed è lo stato dell'arte delle missioni sulla Luna. Stato dell'arte che possiamo, a questo punto tirando le somme, confrontare con quello che è stato immaginato, l'Aquila di Spazio 1999, come mezzo sofisticato per trasportare esseri umani sulla Luna, spostandoci sulla Luna, confrontiamo con quello che effettivamente abbiamo fatto. Il confronto è un pochino impietoso perché noi siamo stati capaci, 30 anni prima di Spazio 1999, però di portare quella specie di macchinina a pedali mentre si era immaginato di arrivare con delle astronavi in grado di muoversi, partire e spostarsi. Stacchiamoci dalla Luna adesso e allontaniamoci un pochino dalla Terra. Proseguiamo nel nostro viaggio. Ci allontaniamo e il prossimo oggetto, l'oggetto più vicino, a questo punto sarà Marte. Anche questo ha sempre acceso l'interesse degli uomini, ha acceso la fantasia e anche questo il primo ad immaginare di andare su Marte è stato una persona di parecchi anni fa. È stato Jonathan Swift con i viaggi di Gulliver in cui gli scienziati parlano di una scoperta di due satelliti invisibili agli altri astronomi, cosa che effettivamente è successa cent'anni dopo, centocinquant'anni dopo, nel 1877, e parlano di una società di scienziati abitanti su Marte. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un preveggente Swift per immaginare centocinquant'anni prima l'effettiva esistenza dei due satelliti non ancora scoperti. Ci spostiamo poi alla fine del 1800 con la guerra dei mondi di Wells. La guerra dei mondi, opera significativa in cui si immagina che la Terra venga invasa da abitanti provenienti dal pianeta rosso, che stanno per conquistare completamente la Terra incapace di difendersi, quando poi in realtà la difesa della Terra sono semplicemente i microbi, gli agenti patogeni presenti nella nostra atmosfera, che fanno ammalare e uccidono gli invasori. Questa guerra dei mondi, l'idea della guerra dei mondi, è stata poi ripresa da un quasi omonimo di Wells, Orson Wells, che nel 1938 ha raccontato l'invasione di Marte alla radio come se fosse un fatto di cronaca. L'ha raccontato talmente bene che ci sono state scene di panico, gente preoccupata che chiamava per avere informazioni. Dopo Orson Wells e Herbert George Wells arriviamo a quella che è stata definita l'età d'oro della fantascienza. L'età d'oro della fantascienza va dalla fine degli anni 30 ai primi anni 50. In particolare, io citerò quelli che, un po' per il cognome, un po' per quello che effettivamente hanno scritto, sono un po' considerati l'ABC della fantascienza. E sono Asimov, Bradbury e Clark. Partiamo dal 1950. Ray Bradbury scrive Cronache Marziane. È una serie di racconti, di 28 racconti, ambientati dal 1999 al 2026, in cui Bradbury, più che soffermarsi sugli aspetti scientifici della vita su Marte, fa delle considerazioni di sociologia sull'invasione. Di fatto, in questi racconti, gli esseri umani invadono Marte e sterminano la civiltà marziana. abbandonando la Terra, perché sulla Terra c'è la guerra atomica. Finisce l'ultimo racconto con un padre che racconta, che dice ai figli, che gli mostrerà i veri marziani e gli indica la loro faccia riflessa in uno specchio d'acqua. Di fatto, noi abbiamo fatto quello che nel secolo precedente Wells aveva ipotizzato nei nostri confronti. Quindi siamo andati a invadere un pianeta diverso. Clark, nel 1951, scrive Le sabbie di Marte. L'ambientazione è circa nel 1990 e qui abbiamo il protagonista che collauda un servizio di linea Terra-Marte. Quindi siamo molto avanti con i lavori per pensare addirittura a un servizio di linea. Racconta delle tecniche di colonizzazione e di terraformazione del pianeta e in molti hanno fatto un confronto fra le sabbie di Marte e cronache marziane ipotizzando che le cronache marziane volesse raccontare l'arrivo degli europei nel continente americano, cosa che effettivamente è molto simile. Noi, quando siamo arrivati nel continente americano, abbiamo rischiato di sterminare gli indigeni. Mentre Le sabbie di Marte, siccome parla della dichiarazione di autonomia di Marte rispetto alla Terra, ricorda un pochino le dichiarazioni di indipendenza degli Stati Uniti. Sono stati fatti questi paralleli fra i due racconti. Chiudo questa carrellata di libri con Asimov, Asimov indiscusso maestro della fantascienza, che in un romanzo secondario, perché Lucky Star è una serie dedicata ai ragazzi, ipotizza di avere una colonia terrestre su Marte, città su Marte, e di incontrare addirittura ai marziani, che in realtà sono esseri talmente progrediti da essere di puro spirito, di pura mente. Asimov si è molto più dedicato a, come ho detto prima, al futuro molto molto lontano e quindi si vede che l'ambiente vicino a noi era troppo piccolo per le sue idee. Oltre alla letteratura, di Marte si è occupato anche il cinema. Io cito tre film per tutti. Siamo atto di forza del 1990 in cui ci sono su Marte delle colonie, c'è la possibilità di terraformarlo, le persone vivono su Marte. c'è Mission to Mars del 2000 di Brian De Palma in cui abbiamo l'esplorazione di Marte senza avere ancora insediamenti stabili e c'è l'ultimo film di Ridley Scott del 2015 in cui si narra di un astronauta abbandonato su Marte per errore e del suo cercare di sopravvivere fino ad aspettare i soccorsi. A parte atto di forza dove effettivamente si parla di colonie gli altri sono film che riguardano un pochino quello che potrebbe essere un futuro abbastanza prossimo cioè l'esplorazione di Marte. Esattamente come abbiamo fatto prima con la Luna vediamo adesso invece qual è stata la realtà della nostra esplorazione di Marte. Partiamo col programma Mariner dal 62 al 73 in cui gli Stati Uniti inviano una serie di sonde per fotografare la superficie di Marte in particolare il Mariner 4 fa la prima foto ravvicinata che è questa in basso a destra della superficie marziana ben diversa da quella che vedremo dopo a cui siamo abituati adesso. Nel complesso i dati raccolti dalle missioni Mariner confermano che il pianeta è inadatto alla vita è un pianeta un pianeta sterile e di fatto sancendo un pochino un calo di interesse delle missioni future perché ci si aspettava tanto da Marte e in realtà ci accorgiamo che era molto simile alla Luna anche se aveva una piccola atmosfera. sono state lanciate altre sonde fino ad arrivare al Mariner 9 per chiudere la serie di missioni. La Luna risponde nel 71 con il programma Mars la Luna con il programma Mars è la prima sonda ad arrivare a toccare il suolo marziano il programma Mariner è rimasto in orbita questa cosa ha riscatenato la lotta che c'è sempre stata fra le due fazioni fra le due nazioni e nel 76 gli Stati Uniti con il programma Viking atterrano effettivamente sulla superficie di Marte incominciando a fornire delle immagini molto particolari come quella che vediamo immagini a colore molto dettagliate le missioni proseguono dopo una ventina d'anni e abbiamo la Mars Global Surveyor dove grazie a questa missione siamo riusciti a capire che probabilmente su Marte un tempo c'era l'acqua vedete quelle fotografie di tracce che ricordano molto l'erosione della sabbia da parte di corsi d'acqua proseguiamo nel 97 la missione Pathfinder dove abbiamo un piccolo rover che si è spostato attorno alla sonda principale attorno attorno all'ender la missione Mars Exploration Rover poi dal 2003 ai giorni nostri manda una coppia di rover gemelli Spirit e Opportunity che vengono lanciati nel 2003 in cui si prevedeva che la durata della missione fosse di 90 giorni beh la missione di Opportunity possiamo dire che è ancora in atto anche se da giugno dell'anno scorso si sono perse per colpa di una tempesta di sabbia si sono perse un pochino le possibilità di comunicare con la sonda però fino al giugno 2018 il rover sganciato da questa missione quindi l'Opportunity ha compiuto 45 chilometri di strada sulla superficie di Marte considerando che doveva essere una missione di soli 90 giorni diciamo che è stato un eccellente successo Curiosity è l'evoluzione della sonda delle due missioni gemelle nata nel 2012 è tuttora in corso la sonda il rover Curiosity è ancora sulla superficie si sta muovendo e continua a raccogliere immagini e raccogliere campioni questo è un autoritratto composto da 55 foto che mostra effettivamente la sonda sulla superficie di Marte è una foto reale non è un rendering grafico o un fotomontaggio nel giugno 2018 grazie a Curiosity la NASA ha annunciato di aver trovato molecole organiche nelle vicinanze del rover appunto questo potrebbe essere indice che in qualche modo su Marte si potrebbe cercare di far sviluppare la vita arriviamo poi ai giorni nostri con la missione ExoMars missione congiunta Unione Europea Russia che ha lanciato la sonda il Lander Schiapparelli due anni fa atterrato malamente quindi atterraggio disastroso distruttivo e la missione InSight atterrata un paio di mesi fa sulla superficie effettivamente completamente funzionante dove verranno utilizzati strumenti molto sofisticati per studiare l'interno di Marte come sismografi e sonde sensori termici questa è effettivamente l'ultima missione in atto facciamo anche in questo caso un parallelo fra la tecnologia che effettivamente abbiamo raggiunto con la missione InSight su Marte e la tecnologia immaginata in questo caso da atto di forza in cui si vede un bell'ufficio con ampie vetrate la gente in giacca e cravatta scrivanie le vetrate che danno su una valle con edifici strutture quindi un pianeta a tutti gli effetti abitato e vivo confrontato con quello che in basso a destra è la realtà è la sonda InSight in un altro autoritratto che ci mostra quanto effettivamente siamo ancora più distanti rispetto alla Luna ad avere una situazione anche solo ipotizzabile di permanenza sul pianeta Allora più ci allontaniamo dalla Terra e andiamo verso lo spazio maggiori sono i racconti i romanzi i film che narrano di possibili avventure e possibili missioni e minori sono effettivamente invece le missioni effettivamente compiute questo perché soprattutto per la Luna dopo lo sbarco sulla Luna scrivere di fantascienza sulla Luna diventava un po' difficile perché c'era da confrontarsi con quello che effettivamente era successo mentre lo spazio siccome lo stiamo più o meno raggiungendo ci dà ancora spazio giustamente per varie speculazioni riprendiamo 2001 di sé nello spazio Kubrick immagina di scoprire questo monolito che è una sorta di faro che avvisa qualcuno che l'umanità ha raggiunto un certo grado di evoluzione tecnologica questo faro questo monolito manda un segnale verso Giove per cui l'umanità manda questa astronave verso Giove questo Discovery One verso Giove è un'astronave talmente grande che le persone possono correre e fare ginnastica all'interno dei loro corridoi per partire dalla Terra si usa una stazione spaziale talmente grande dove ci sono corridoi con poltrone sale d'attesa ristoranti ambienti di design ambienti sofisticati è veramente qualche cosa di al di là da venire una situazione del genere oltre Kubrick ci sono stati altri registi che hanno ipotizzato di andare verso l'esterno nel 1960 la prima serie di Lost in Space di cui adesso stanno trasmettendo un remake ambientava questa missione nel 1997 nel 1969 Gerry Anderson lo stesso autore di Spazio 1999 ideava la serie UFO che è ambientata nel 1980 in cui anche qua c'è un'invasione aliena i terrestri riescono a inseguire degli invasori verso il loro pianeta che dovrebbe essere attorno ad Alpha Centauri non viene citata Alpha Centauri però in base ai calcoli in base alla durata del viaggio in base a quello che viene detto nei racconti in base alla velocità che viene citata nelle puntate i calcoli ci portano ad Alpha Centauri quindi secondo Anderson nel 1980 avremmo già anche raggiunto Alpha Centauri citerei Blade Runner perché intanto è ambientato in quest'anno nel 2019 ed è stato girato nel 1982 è ambientato sulla terra però gli androidi che vengono cacciati nel film lavorano nelle colonie extramondo e nella frase nella frase finale dell'androide Roy Betti prima di morire viene citato a largo dei bastioni di Orione bastioni di Orione in cui è una traduzione un po' scorretta della frase inglese che parla di shoulder of Orion cioè delle spalle di Orione e la spalla di Orione è la stella Betelgeuse la stella Betelgeuse che è a circa 600 anni luce da noi quindi se l'androide lavorava nelle colonie extramondo e dice di aver visto le navi in fiamme a largo dei bastioni di Orione cioè in orbita attorno alla stella Betelgeuse si suppone che quest'anno noi saremmo arrivati a 600 anni luce di distanza da qua siamo un po' distanti ancora terminerei con Christopher Nolan che in Interstellar fin del 2014 utilizza i wormhole cioè delle singolarità dello spazio e tempo per spostarsi da un punto all'altro del nostro universo non è ambientato nei nostri giorni ma pochi anni nel futuro comunque stiamo parlando di ventunesimo secolo ovviamente qui stiamo parlando di tecnologia che probabilmente qualcuno sempre parlando di fantasia può aver ipotizzato ma che siamo ben distanti dal raggiungere e sempre parlando di fantasia negli anni scorsi nel 1970 un famoso artista spaziale americano aveva ipotizzato le stazioni spaziali con questi dipinti sono due tipologie di stazioni spaziali una cilindrica vedete quella a sinistra un enorme cilindro che ruota sul suo asse per simulare la forza di gravità con aperture di immense vetrate per permettere al sole di illuminare le vallate con fiumi montagne colline oppure l'altra sulla destra con un anello che ruota attorno al suo centro anche qui con la parte superiore a vetrata per poter permettere l'illuminazione di raggiungere anche qua ambienti dove ci sono laghi fiumi è una vita similterrestre siamo ovviamente anche qua ben distanti da raggiungere queste stazioni orbitanti vi farei anche vedere delle copertine di una rivista del 1979 in cui si ipotizza negli anni 2000 di avere colonie nello spazio con città coperte dalle cupole però si ipotizza anche vorrei farvi vedere uno smartwatch questo nel 1979 si ipotizza sempre in questa rivista stazioni spaziali basi nonché olimpiadi sulla luna queste sono le olimpiadi del 2020 in cui il record del mondo di salto in alto è di 14 metri e sono le olimpiadi lunare si vede si vede da qualche parte scritto in piccolo che cosa abbiamo raggiunto invece in realtà nelle nostre missioni verso lo spazio citiamo il programma Pioneer degli Stati Uniti composto da una serie di missioni le cui le due più famose sono state il Pioneer 10 e il Pioneer 11 sono le missioni che sono state mandate a esplorare i pianeti esterni in entrambe le missioni c'era una placca d'oro con stilizzati disegni degli esseri umani stilizzato il disegno del nostro sistema solare la posizione nella nostra galassia l'atomo di idrogeno questi due satelliti queste due sonde hanno effettivamente percorso tanta strada tanta strada quanta ne hanno percorsa i due Voyager che sono forse le sonde più famose quelle che scatenano di più la fantasia della gente il Voyager 1 e il Voyager 2 sono quelle che ci hanno mandato le prime foto molto interessanti di Giove e Saturno Voyager 2 è arrivata a fotografare Urano e Nettuno Voyager 2 ad oggi continua a trasmettere informazioni verso la Terra anche Voyager 1 si suppone proseguiranno a trasmettere fino alla completa scarica delle loro batterie che dovrebbe avvenire nel 2025 Voyager 1 è effettivamente l'oggetto più lontano spedito dagli esseri umani ha raggiunto le 144 unità astronomiche poi vi dirò dopo che cosa corrispondono gli ultimi oggetti che stanno allontanandosi dalla Terra sono la missione New Horizon del 2006 che è arrivata poi a fotografare Plutone nel 2015 la sonda Juno che nel 2011 è stata lanciata per raggiungere Giove nel 2016 e la sonda Osiris-Rex che è lanciata nel 2016 si occupa dell'esplorazione di asteroidi e sta orbitando sta raggiungendo e cercando di atterrare su un asteroide per portare indietro dei frammenti dello stesso spero si veda è un po' scuro queste sono le posizioni raggiunte nello spazio questo cerchio storto è l'orbita di Plutone dalle quattro sonde che ho citato prima i due Pioneer questo Pioneer 10 e Pioneer 11 Voyager 1 e Voyager 2 hanno abbandonato ormai il sistema solare vedete che l'orbita di Plutone è questa e Plutone è considerato molto distante già questa è la distanza massima che noi abbiamo raggiunto nella nostra esplorazione dello spazio e anche qua per fare un confronto fra quanto abbiamo visto nella realtà quindi la nostra stazione spaziale missione congiunta con l'interno della stazione spaziale possiamo confrontarlo con quello ipotizzato da Clark scusate da Kubrick nel suo 2001 effettivamente la stazione spaziale è un oggetto molto all'avanguardia abbiamo iniziato a costruirlo nel 1998 dovrebbe restare in funzione fino al 2024 potrebbe poi essere smantellata oppure potrebbe essere riutilizzata a pezzi ed effettivamente è un habitat per gli astronauti ci sono astronauti che passano mesi e mesi sulla stazione spaziale in questo in questo ambiente quindi molto ristretto e molto tecnologico quello che secondo me possiamo considerare più vicino alla fantascienza di tutta la nostra realtà tutte le nostre tecnologie potrebbe essere questo un piccolo filmato che è l'atterraggio del Falcon 9 di Elon Musk dura giusto un minutino è quanto di più simile alla fantascienza è stato ipotizzato fino adesso prima di Elon Musk il razzo che atterrava in verticale era veramente il disegno da fumetto di fantascienza possiamo considerare forse l'oggetto più tecnologicamente avanzato è atterrato in verticale in mezzo a una piattaforma in mezzo all'oceano perfettamente fermo perfettamente stabile facciamo l'ultimo giochetto di confronto quindi confrontiamo quello che era stato pensato da Kubrick con la stazione spaziale orbitante che ruotava sul suo asse con la nostra stazione spaziale questi sono gli interni della stazione spaziale di Kubrick e questi sono gli interni della nostra stazione spaziale con Samantha Cristoforetti che si destreggia in mezzo a monitor e tecnologia varia siamo ormai arrivati alla fine perché più distanti di così noi di fatto non siamo andati possiamo dire che ci stiamo che stiamo esplorando lo spazio facciamo questo gioco allora supponiamo che la terra è la nostra galassia quella sulla sinistra è la nostra galassia e il puntino il puntino rosso che si vede il puntino giallo qui è la posizione più o meno del nostro sistema solare cito alcuni numeri giusto per per avere dei riferimenti la distanza terra sole è chiamata unità astronomica e sono circa 150 milioni di chilometri un anno luce che è la distanza utilizzata per indicare distanze molto grandi sono 63 mila circa unità astronomiche quindi in un anno luce ci sono 63 mila volte la distanza fra la terra e il sole il diametro della nostra galassia che è questa ripeto che vediamo sulla sinistra è di circa 100 mila anni luce ok che corrisponde a 6 miliardi erotti unità astronomiche se adesso supponiamo di fare un confronto e di ipotizzare che la galassia sia grossa come la terra quanto spazio abbiamo percorso della nostra terra quanto abbiamo esplorato della nostra terra con il voyager che è l'oggetto più lontano arrivato è arrivato a 144 anni luce abbiamo unità astronomiche quindi giusto unità astronomiche scusate quindi se il voyager ha fatto 144 unità astronomiche rapportato alle dimensioni della terra di quanto ci siamo spostati ci siamo spostati da casa nostra di 30 centimetri e dobbiamo esplorare tutta la terra ancora quindi possiamo dire che stiamo viaggiando nello spazio molto molto lentamente ma ci stiamo spostando grazie